com'è andata la serata? beh, sono sincero, secondo me non si sono divertiti abbastanza secondo me era un po' moscetta stasera, devo dire la verità ste, ma che dici, sabato sarà uscito qualche bottiglia? e ti devo dire, questi per me vanno acqua minerato, non so veramente ridotto Fama, ti è piaciuta la musica stasera? musica pessimo, pessimo, pure la gente? sono d'accordo musica pessimo, questa è una cosa che è una cosa, io vorreiermi che f***mi io vorrei fare una cosa non so, io vorrei cumper così io vorrei fare una cosa io vorrei fare una cosa io vorrei fare una cosa allora beh, comunque cambiamo il siero qua è ora eh sui sierataci con questi quattro sfigati no bravo, però di che cambierò il lavoro? che dobbiamo, ma Rosso di Sera e 100 sgruppi, una serata tra amici, viaccia a trovare Non ci vieni a trovare, lascia aperti